Musica Ora lui la penetrazione Rosselli in ballo e che ha detto? Si guida Rosselli Rosselli prova a tagliare i 2 Il giusto per un conto per sex e la violenza Rosselli prova a tagliare i 2 l'attacco e la difesa il cucina e questa volta la Venezia la difesa di Rossetti con rapidissima difesa con Manola faccia a cango e tutt'oppa un'attività di passi solidissima l'intervento della sospensione della sospensione prima prima del tecnico dato ad Angea Matt la penetrazione si ferma Rossetti, l'assist per una delle magie di Guido Rossetti c'è Rossetti che si tuffa recupera il pallone Clark a tre punti al pallone poi arriva dentro per Rossetti che spisa capolavoro di squadra 9 secondi per il terremoto e tutti i miei nomi Rossetti per il passetto cadendo all'interno anche al destro Rossetti per non lasciare il tiro da tre punti Gentile non fa fallo Rossetti fa saltare i due giocatori il terzo Rossetti da tre vecchio destro sulla sirena di Guido Rossetti delirio al taglieggio veramente grandissimo Rossetti doppia finta